Risorse in arrivo al Comune di Ottati per la transizione digitale. L'annuncio è stato dato online dal sindaco Elio Guadagno, che ha parlato di ottime notizie dal Ministero dell'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Le candidature del Comune di Ottati ai bandi PNRR e PA Digitale 2026, scrive il primo cittadino, relativamente alla digitalizzazione dell'ente, sono state tutte ammesse a finanziamento per un totale di circa 185 mila euro. PA Digitale 2026 è la piattaforma che consente alle amministrazioni di richiedere fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale, rendicontare l'avanzamento dei progetti e ricevere assistenza. Per quanto riguarda il Comune di Ottati, il sindaco ha spiegato che si tratta di fondi che permetteranno il potenziamento dei servizi digitali del Comune attraverso app IOP, Agopa, Speed e CIE e la migrazione dei software attualmente in utilizzo verso soluzioni cloud all'avanguardia, migliorando i servizi e le performance della pubblica amministrazione. Nei mesi scorsi, infatti, sono partiti i primi avvisi dedicati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dalla migrazione al cloud a modelli collaudati per l'implementazione di servizi pubblici digitali, passando per il consolidamento dell'identità digitale, Speed e CIE, fino al sistema di pagamento Pagopa e dell'app IOP. I fondi sono dedicati a 22.353 pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale e vengono assegnati in ordine di prenotazione con l'erogazione in modalità voucher. Ogni pubblica amministrazione, in base a tipologia, dimensione e necessità, riceverà un finanziamento predefinito. Al Comune di Ottati vanno dunque circa 185.000 euro per la digitalizzazione dell'ente.